Buongiorno, siamo a sicurezza 2015 e questo è lo stand Silentron, nello specifico io sono Maurizio Vullo, responsabile commerciale Italia di Silentron S.P.A. Silentron è un'azienda che nasce nel 1978 ed è il primo produttore italiano di sistemi d'allarme senza fili. Quello che presentiamo in occasione di questa fiera è un nuovo sistema d'allarme, un'intera gamma senza fili ovviamente, due centrali che trasmettono e parlano con tutte le periferiche attraverso una doppia frequenza contemporanea, il 433 e il 868 canalizzata. Questo mi consente di avere una certezza delle comunicazioni, tutte le periferiche comunicano con il sistema in maniera bidirezionale quindi è una conferma di tutte le trasmissioni. Il sistema comunica e può essere collegato alla lette locale ma anche alla rete LAN esterna, remota attraverso un wifi integrato. Ho la possibilità di integrare nel sistema rivelatori con fotocamera ma anche telecamere IP di qualsiasi marca ottenendo una conferma fotografica dell'intrusione ma anche la possibilità di accedere live al sistema, e quindi di avere un vero e proprio flusso video. Tutti i rivelatori sono IP64 e offrono l'opportunità di essere installati sia in interno ma anche in esterno protetto. Sono contatti con antimanomissione magnetica quindi doppie ampolle, doppio ingresso programmabile NC e NO o con conteggio impulsi. Il tutto è reso molto semplice anche per l'utente attraverso un'interfaccia lineare, touchscreen, che può essere direttamente a bordo della centrale oppure sfruttata attraverso i normali strumenti che tutti oggi abbiamo in tasca che sono gli smartphone piuttosto che i tablet. Questo sia lato utente che lato installatore. Vi invito chiaramente ad approfondire gli aspetti sul nostro sito web www.silentron.com Grazie per l'attenzione e a presto!